Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo video vi presentiamo il volume Galvanotecnica sperimentale a cura di Davide Sculino, editore Libri Sandit. Il costo del volume è di euro e novanta. Il capitolo 1 prevede gli accenni di chimica. Capitolo 2 noti di elettrotecnica. Il capitolo 3 è la deposizione galvanica. Il capitolo 4 esperimenti galvanica. Vengono presentati vari esempi di bagni galvanici. Argentatura, nichelatura, bronzatura, cromatura, zincatura, doratura, ottonatura. Grazie e vi aspettiamo per il prossimo nostro video.